Amici, buongiorno, grazie mille degli auguri. Ehi, sono di qua, eccomi. Ciao, come vedete sono cresciuto ma non sono invecchiato, questa è la dimostrazione della mia cavatta. Bene, allora vi voglio ringraziare innanzitutto per gli auguri e poi vi voglio chiedere un favore, un piccolo regalo di compleanno, 5 minuti ed è fatta. Ho inventato questo, il Marte Advisor, siccome sto mandando delle mail per cercare di collaborare con delle persone che non mi conoscono, ho pensato, cazzo se ci fosse come TripAdvisor quelli potrebbero andare a vedere le recensioni e vedere che cosa ne pensano gli altri di me, quindi in qualche modo conoscermi prima di conoscermi. Siccome non esiste per le persone questa cosa, ho detto facciamolo. MarteAdvisor, una breve recensione su martemago.gmail.com, me la puoi inviare via mail, sarebbe fantastico. Una recensione sincera, non ti sto chiedendo una recensione positiva, attenzione, una recensione sincera, quello che tu pensi di me, ok? Se stai vedendo questo video ci conosciamo, quindi qualcosa penserai, buono, meno buono, positivo, negativo, non importa, l'importante è che sia il tuo vero pensiero su di me. Sarebbe veramente un aiuto incredibile, io poi farò un mashup di queste recensioni e le invierò insieme al mio curriculum per far capire chi sono, a chi ancora non mi conosce e a cui chiedo una collaborazione. Sarebbe veramente un grande, grande, grandissimo aiuto. Può essere una riga, cinque righe, dieci righe al massimo, cioè una roba molto breve, eh? Però ci tengo veramente tanto, mi farebbe veramente piacere. So che risponderete in otto su due milioni, non importa, va benissimo uguale. Quelli che rispondono, io già vi mando un bacio, anche quelli che non rispondono non importa. I cinque, le cinque recensioni più, diciamo così, sincere, più simpatiche, più cattive, più argute, più belle, le pubblicherò, con il tuo consenso, sulle mie pagine social. Quindi questo è quello che voglio fare. Sarebbe veramente un grande, grande, grande aiuto per un'idea pazza. Marte Advisor! Aaaaaaah!